Ben ritrovati negli studi di Calabria News 24 con il nostro appuntamento con le interviste. Ospite di questa giornata è l'avvocato Nuccio Ornella, presidente AIL Cosenza. Benvenuto avvocato. Ben trovati. L'AIL in occasione della giornata nazionale per la lotta contro le leucemie e linfomi promuove Sognando Itaca, un progetto di velaterapia che ha raggiunto ormai la tredicesima edizione. Mirando proprio appunto alla riabilitazione psicologica, al miglioramento della qualità di vita dei pazienti ematologici. In collaborazione con la Marina Militare, il CONI, la Federazione Italiana Vela e la Lega Navale Italiana. È in tour parte il 3 giugno fino al 18 giugno. Parte da Napoli e tocca diversi porti. In questa, sul Tireno Cosentino, è Cetraro la location prescelta? Sì, è Cetraro e noi ne siamo particolarmente orgogliosi perché, insomma, ormai l'abbiamo già fatta. Questo è il terzo anno che riusciamo ad avere la vela di AIL nazionale. Trovo che sia un'esperienza bellissima perché questa traghettata, diciamo, consente a pazienti, familiari, medici, psicologi, infermieri, di essere tutti sulla stessa barca. Quindi di dover stare fianco a fianco e di poter stare fianco a fianco. Per cui in quel momento davvero non si distingue chi sia il medico, chi sia il paziente. È una cosa molto bella che trova un alto gradimento dei pazienti emato-oncologici. Una giornata all'insegna appunto dell'ilarità, di far sentire anche le persone affette da questa malattia libere di poter navigare, di poter essere libere di soccare il mare. Ma, avvocato, noi sappiamo che l'AIL di Cosenza è comunque una storia bella. È una storia bella positiva della nostra terra di Calabria, anche perché rappresenta un trend all'inverso. Cioè riesce ad essere un'emigrazione sanitaria all'inverso, vero? Sì, è una gran bella definizione questa. Per verità è l'ematologia cosentina, che pur essendo molto più giovani rispetto alle ematologie calabresi, mi riferisco a quella di Reggio Calabria, a quella di Catanzaro, è riuscita in questi anni dalla sua nascita, perché l'ematologia di Cosenza è nata nel 2005, è riuscita in questi anni a fare tante cose e a garantire ai pazienti uno standard di cura elevato. Quindi questa è una gran bella notizia, perché si sente sempre, forse siamo sempre portati ad una critica eccessiva, però credo che dobbiamo evidenziare anche le belle realtà. Attualmente è fatta di medici giovani, l'attuale primario è il dottore Massimo Gentile, ma c'è il dottore Vigna, c'è il dottore Mendicino, ne sono arrivati degli altri. Quindi è un bel centro di cura. La giornata si concentra tutto sul porto di Catraro, ricordiamola, che è preceduta anche da un incontro o da un convegno. Più che un convegno, in realtà noi abbiamo l'abitudine di fare una conferenza stampa, durante la quale diffondiamo proprio le ragioni di questa giornata. La conferenza stampa diventa anche un momento di scambio. È molto bello vedere soprattutto la partecipazione, ripeto, senza camici, senza giacche e cravate, senza presidi ospedalieri. È molto bello. È una giornata in allegria, che vede soprattutto la bella partecipazione dei pazienti. E questo è lo scopo. Mi si dà l'impressione, la possibilità di navigare. D'altra parte anche il titolo del progetto, Sognando Itaca, ricorda il fatto che ci sia una meta sempre da raggiungere. Ovviamente per i nostri pazienti la meta che noi ospichiamo sempre è quella della guarigione. Grazie, grazie Avvocato per essere stata con noi. Quindi l'appuntamento è per il prossimo 8 giugno al porto di Catraro. Grazie. Grazie.